Scratch Day all'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela ha un'opportunità per imparare a programmare e sviluppare la creatività e il pensiero computazionale ma anche un'occasione per stare insieme e condividere idee. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con ShipLab nell'ambito delle iniziative promosse dalla scuola diretta da Maurizio Tedesco. I bambini tra i 7 e i 12 anni possono programmare con semplici mattoncini, semplici puzzle, dei programmi, dei videogiochi o addirittura robot, così come abbiamo fatto noi qui alla scuola Quasimodo. La scuola Quasimodo è Gela che sono tra i pochi in Sicilia a celebrare lo Scratch Day, quindi i bambini devono essere molto entusiasti di quello che hanno fatto oggi. Oggi in pratica loro sono riusciti a programmare questo piccolo robottino e sono riusciti a farlo muovere in avanti, indietro, a destra, a sinistra, a farlo suonare, a far accendere dei led. Tutto questo serve ai più piccoli ad avvicinarsi e al mondo della programmazione e al mondo dell'elettronica, che sono comunque due categorie che un domani possono sempre più immetterli all'interno del mondo del lavoro. E se questo lo riescono a fare già ad 11-12 anni, per loro il futuro è sicuramente prospero. Oggi a scuola abbiamo programmato un robot tramite un programma che si chiama Scratch. Per fare questo programma all'inizio è venuto un po' complicato, però poi man mano che lo facevo iniziavo a capire sempre meglio come funzionasse e in questo modo sono riuscito a fare anche un buon lavoro. Abbiamo fatto un esercizio tramite Scratch che dovevamo fare un programma in modo che il robot prima di tutto si muovesse, poi in base ai numeri che scrivavamo sul telecomando doveva esserci una precisa luce e un preciso suono e poi il robot doveva camminare. Quando camminava e incontrava un ostacolo dovevano attivarsi dei sensori che bloccavano il robot e fermavano i motori. È stata una festa in un anno ricco di coding, robotica ed educativa per un numero sempre crescente di studenti dell'istituto scolastico. È un'attività che abbiamo voluto promuovere per coinvolgere i ragazzi al termine dell'anno scolastico in un momento anche per certi versi celebrativo di tutta quella che è l'attività che hanno svolto nel corso dell'anno scolastico. Perché non è un episodio isolato ma scaturisce da un lavoro che hanno svolto nelle varie classi della scuola secondaria di primo grado e che è stato un primo approccio per loro verso la programmazione che ha la finalità di sviluppare il pensiero computazionale. Noi vorremmo che i ragazzi fossero non solo dei fruitori dei prodotti informatici ma conoscessero bene quali sono i processi logico-matematici che sovrintendono al funzionamento dei dispositivi che loro così bene utilizzano come nativi digitali.